Parliamo adesso delle concimazioni, azotto, fosforo e potassio, quanto e se darne? Per quanto riguarda il potassio, il grano non è una cultura avida di potassio, quindi si può tranquillamente omettere. Per quanto riguarda l'azotto, anche qui la direttiva nitrati, che pur mi concede un anticipo di 30 unità fatte entro il mese di ottobre, direi che tendenzialmente non lo consiglio, cerco di risparmiarmi quello che può essere la dotazione che mi dà la direttiva per farla tutta nelle fasi primaverile. Teniamo presente che in processione culturale su mese e sorgo, mediamente, servirebbero quelle 30-40 unità in più, perché sono oggetto della detrificazione del terreno. E' chiaro che questo lo posso fare solo nel momento che ho un'analisi del terreno, posso sviluppare un piano di concimazione. che sicuramente, secondo me, ogni azienda dovrebbe dotarsi di un'analisi, quantomeno anche perché ha un valore di 5 anni, per poter sviluppare questi programmi, perché purtroppo si sta verificando che per rimanere nei limiti si sta creando un mercato parallelo, sommerso, di concimi acquistato a questo continuo fiscale, che non ha molto senso, al di là di questo. Poi l'altra concimazione da consigliare, secondo me, è un po' di fosforo. Tendenzialmente noi consigliamo dalle 60-80 unità di fosforo, privilegiando la forma del perfosfato semplice, in quanto nella formulazione del concime c'è una quantità importante di isolfo, che poi migliora quello che è l'assorbimento dell'azoto nelle fasi primaverili. Quindi utilizzando e rispettando i quantitativi previsti dalla direttiva nitrati, magari li ricordiamo, e facendo il bilancio, insomma, si riesce a produrre senza problemi. Sì, esatto. Se io leggo tal quale le direttive, mi dice 155 unità per quanto riguarda i granitini, 160 unità per quanto riguarda i duri. Come dico, io senza un'analisi non posso andare in deroga a questi numeri. È chiaro che di fronte a un'analisi del terreno, con quelle processioni culturali che abbiamo citato prima, sviluppando il bilancio dell'azoto, mediamente quelle 30-40 unità di azoto in più mi vengono concesse, che sono quelle che poi mi servono per fare del grano di qualità e anche in quantità. Ecco Massimo, ogni anno ci troviamo, prima della semina del grano, a dare agli agricoltori che seguono a Greste una serie di consigli, che possono sembrare ripetitivi, ma così non è. No, non lo è, perché quando si avvicinano all'epoca di semine, molte volte gli agricoltori si fanno prendere un po' dalla frenesia, magari per paura di un andamento climatico verso non riuscire a seminare o meno, quindi accelerano molti i tempi di semina, non gestiscono bene gli investimenti, non effettuano le lavorazioni adeguate proprio per questa frenesia. Quindi quello che si dice è di fare le cose con calma e fate bene, i tempi ci sono, perché il grano si può seminare anche fino a tutto dicembre, quindi non si è mai verificato un anno dove poi alla fine non sono riusciti a seminare il grano. Quindi i tempi ci sono, facciamo le cose con calma e fatte bene, perché comunque la semina è la prima operazione che fare, ma diventa la più importante.